Buonasera a tutti i gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di TVRS, apriamo con la pagina della cronaca. Un malore fatale mentre era in bicicletta, così è morto oggi nel tratto di statale adriatica che da Marina Palmenze porta al bivio per la pedona Bruno Raggiunti, 66 anni, residente a Porto San Giorgio ed ex dipendente comunale. L'uomo si è accasciato a terra ed immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno subito tentato un massaggio cardiaco che però si è rivelato inutile. Lascia la moglie ed una figlia. Coltelli e minacce per far finire la relazione d'amore tra la figlia ed un ragazzo di origine macedone poco più che ventenne. Sono le accuse mosse ad una coppia di albanesi residenti a Fabriano che per contrastare la relazione sentimentale è arrivata a prendersela con i familiari del fidanzatino in una sorta di duello rusticano avvenuto cinque anni fa. Il tribunale di Ancona ha condannato moglie e marito di 44 e 54 anni. Lui ad un anno ed otto mesi per stalking, minacce, lesioni personali, violazione di domicilio e danneggiamento e lei invece ad un anno. Alla banchina 21 del porto di Ancona un'auto è caduta in mare e dopo essere rimasta in galleggiamento per breve tempo si è adagiata sul fondale. È accaduto nella tarda mattinata dalle prime informazioni. Sembra che il veicolo di proprietà di una società operante in ambito portuale fosse posteggiato in zona. Sono in corso le ricerche per scongiurare l'eventualità che a bordo dell'auto fossero presenti persone. La verifica subacqua la stanno eseguendo i sommozzatori della Guardia di Finanza. Sul posto anche i vigili del fuoco. Ed apriamo ora la pagina della pandemia con l'intervista di Giovanni Filosa al virologo Iesino Massimo Clementi dell'ospedale San Raffaele di Milano. La spallata finale al virus non può che avvenire tramite le vaccinazioni. Sentiamo. Un anno fa, prima dell'apertura delle scuole, eravamo qui. Ecco, analogie, differenze, criticità riscontrate o riscontrabili di fronte al Covid-19. Stiamo andando verso un autunno difficile? No, non credo difficile come l'anno scorso. Le differenze nei confronti dello scorso anno sono molte e soprattutto riguardano il fatto che quest'anno oltre l'80% delle persone sono vaccinate, hanno ricevuto due dosi di vaccino. Quello che stiamo vedendo in queste settimane, perché molti si stupiscono che malgrado questa quota di vaccinazioni ci sia un consistente numero ancora di persone che si infettano e di meno consistente, ma comunque ancora presente numero di persone ricoverate e anche di decessi, e chiedono perché. In realtà la situazione epidemiologica è molto cambiata. Oggi abbiamo di fronte due diverse epidemie. Un'epidemia piccolina, residuale, non grave, principalmente riguarda transitori e infezioni dei soggetti vaccinati. È un'epidemia di quella quota di persone che ancora per motivi diversi non si è vaccinata e che rappresenta circa il 20% della popolazione. Teniamo presente che questa quota di persone include anche circa 1.700.000 soggetti tra i 50 e i 59 anni che sono quindi fortemente a rischio anche di patologia grave. Se non riusciremo a vaccinare una quota rilevante di queste persone, io penso che non riusciremo a arrivare a quella immunità di popolazione che serve per bloccare il virus, la circolazione del virus. E i vaccini fatti finora continueranno e continuano ancora a proteggere dalla malattia? Certamente sì. La gente è stanca, è vero. Però la gente deve capire che misure, ad esempio come il Green Pass, che è una misura burocratica se vogliamo, non è il Green Pass che ci serve per difenderci dall'infezione. Il Green Pass è un modo burocratico per incentivare la vaccinazione, il ricorso alla vaccinazione. Forse anche qualcosa più di incentivare, diciamo la verità. E dare anche delle libertà aggiuntive a chi ha completato l'iter vaccinale. A me non sembra così strano e quindi personalmente lo condivido. Qui si tratta di dare la spallata finale e la spallata finale la possiamo dare con la vaccinazione. Tu mi chiedevi dei vaccini. Negli ultimi giorni ci sono state alcune sommesse polemiche sul fatto che si riparte con una terza dose per alcune categorie di soggetti. Dicendo che servono tre dosi, questo lo dicono i coloro che in qualche modo non credono alla validità del vaccino. Quindi i vaccini non sono così efficaci. Non è vero, perché di vaccini con tre dosi ce ne sono tanti, almeno 4-5 a mia memoria. E il fatto che serva una terza dose dipende dal fatto che l'immunità conferita dal vaccino decresce nel tempo e che quindi arriva a livelli che non sappiamo. Non è che le persone dopo 9-12 mesi siano senza immunità. Non sappiamo se quell'immunità protegga nei confronti dell'infezione in maniera efficace. Questo è un vaccino molto efficace, molto flessibile, che ci aiuterà tantissimo per molte malattie infettive, ma anche per patologie non infettive. Quindi ne sentiremo parlare moltissimo, altro che sperimentarlo. E purtroppo ci sono da registrare due decessi da Covid avvenuti nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 79enne di Treia morto presso la residenza Valdaso e di un altro uomo di 75 anni residente a Morrovalle, ispirato a Fermo. Il totale delle vittime sale quindi a 3.056. Diminuiscono i contagi, che sono stati 114, quasi la metà rispetto a ieri, ed in calo anche il tasso di positività al 5,7% ed il tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti ora a 66,47. La provincia più colpita stavolta è quella di Pesaro-Urbino con 29 casi, a seguire Ancona con 26, Macerata con 21, Ascoli-Piceno con 12 e Fermo con 8. Leggera crescita di due unità dei ricoverati, che sono attualmente 83, di cui 23 nei reparti di terapia intensiva ed altrettanti nelle semi-intensive. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi attorno alle 11 per soccorrere una donna infortunata ad un'arte inferiore lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di Mezzavalle nei pressi di Ancona. È stata soccorsa dal personale del 118, quindi è stata fatta salire su un mezzo 4x4 per accompagnarla al parcheggio lungo la provinciale del Conero, dove ad attenderla c'era un'ambulanza per trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Cambiamo argomento, sono stati presentati 5 progetti per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne affette da carcinoma mammario. La regione interviene con un cospicuo finanziamento. I dettagli in questo servizio. Sono ai nastri di partenza i corsi e le attività dei 5 progetti integrati sperimentali per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario, vincitori del bando della regione Marche. I 5 progetti approvati, uno per provincia, beneficeranno del contributo di 750 mila euro. Favorire un reinserimento graduale e rassicurante nella vita sociale e lavorativa generando un impatto positivo che permette di gestire la patologia e le relazioni in ambito familiare, sociale e nel lavoro e la finalità di progetti che a seguito dell'approvazione coinvolgeranno in totale 145 donne con pregresso carcinoma mammario. Cos'è questo bando? È un modo per accompagnare e sostenere le donne che hanno avuto una problematica di salute carcinoma al seno e che sono state per forza di cose lontano dal loro posto di lavoro o che sono disoccupate al sostegno per il loro reinserimento nel mondo del lavoro qualora già lavorassero e quindi avrebbero avuto questa sospensione forzata in noi purtroppo per le cure eccetera oppure se erano già disoccupate un orientamento e un sostegno alla ricerca di lavoro quindi è un bando a sostegno delle donne che hanno avuto un problema di salute in questo caso ripeto carcinoma al seno per il reinserimento o l'inserimento nel mondo del lavoro questo attraverso un pool di enti con capofila o ASUR o università o enti di ricerca quindi che si avvalgono poi di forme di associazionismo diffuso, ONLUS, cooperative eccetera ma capofila devono essere o le ASUR provinciali o le università in questo caso ci sono cinque progetti uno per provincia e oggi li elenchiamo perché appunto hanno queste caratteristiche ancora brevi di cronaca un altro intervento dei vigili del fuoco è avvenuto a Duscerno frazione nel comune di Montegallo per soccorrere un ciclista che percorrendo un sentiero di montagna è precipitato in un dirupo verticale per circa 30 metri i pompieri di Ascoli Piceno lo hanno raggiunto su indicazioni date dai due amici che erano con lui messo in condizione per essere assistito e stabilizzato dal personale del 118 e con tecniche speleo alpino fluviali lo hanno riportato nella zona in cui è stato poi raggiunto dall'elicottero per essere trasportato all'ospedale Mazzoni fortunatamente per il biker non ci sono state gravi conseguenze i carabinieri di Osimo hanno arrestato a Castelfidardo un cinquantenne originario della provincia di Foggia per furto e tentato furto aggravato è stato sorpreso ieri notte nei pressi del class hotel vicino ad una ditta e dalla vista dei militari si è dato alla fuga nella immediatezza delle indagini gli operanti accertavano che nella zona era stato asportato un autocarro e posizionato nel piazzale antistante ad un capannone nonché era avvenuto il taglio della rete perimetrale e la forzatura di porte d'ingresso per accedere all'interno di due aziende del posto il malvivente è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Montacuto ed andiamo al Zana di Bologna la Fiera del Biologico e del Naturale che si chiude domenica con Food Brand Marche un nuovo ed unico marchio sentiamo l'intervista di Manolita Scocco Grano, pasta e vino marchigiani bio per la prima volta in un unico stand realizzato da Food Brand Marche a Bologna i campioni direttore che occasione è? un'occasione indimenticabile per me perché riapriamo le attività dal vivo un'attività fieristica e presentiamo oggi l'associazione di produttori agroalimentari Marche che raccoglie tutti i prodotti certificati da nostra regione da Pesaro ad Ascoli Piceno per promuovere in tutto il mondo e in Italia praticamente il brand Marche e promuovere anche tutte le eccellenze certificate nel nostro territorio questo è un assaggio, una realtà variegata, unita insieme, tenuta insieme da che cosa? qual è la filosofia? la filosofia è una sola promuovere le marche nel mondo perché noi abbiamo un unico modo per promuovere i prodotti marchigiani metterli sotto un unico ombrello l'ombrello si chiama Food Brand Marche perché su questa associazione noi abbiamo inserito tutte le aziende ne sono oltre 4.500 che producono prodotti certificati nella nostra regione tutto questo ci permette di stare insieme, di condividere progetti promozionali e di permettere a tutti di partecipare a queste iniziative perché comunque ognuno di noi ha una storia da raccontare ognuno di noi ha un territorio da raccontare ognuno di noi è custode del proprio territorio ed essere custode del territorio vuol dire la bellezza delle nostre colline la bellezza dei nostri paesaggi e la storia delle marche chi sono i protagonisti di questo primo importante appuntamento fieristico in presenza? a Bologna, località strategica, appuntamento internazionale? sono i due prodotti per eccellenza marchigiani che oggi sono capofila in Europa, in Italia e nel mondo delle marche i prodotti biologici e qui abbiamo le due cooperative più importanti Giro Lomoni e Terra e Cielo e abbiamo i due consorsi del vino il consorzio Vini Piceni e l'istituto marchigiano Nutella Vini questi quattro consorsi oggi rappresentano qui oltre 2000 aziende che lavorano nei campi perciò significa una grande promozione integrata tra quello che è il vino, il cibo, il territorio, la cultura, la storia e le tradizioni della nostra regione la nuova frontiera del biologico verso quale direzione si sta andando in un consenso come questo che richiama tanti buyer di questo mondo ma che vede anche tanta concorrenza? sul biologico le marche sono pioniere su questa faccenda noi dobbiamo dire grazie a Giro Lomoni per aver fatto capire a tanti altri che non dovevamo essere soli ma dovevamo avere realtà, territori, bio e su questa realtà e su questa logica di Giro Lomoni abbiamo costruito le marche del biologico oggi è una regione importantissima oggi è una regione con una superficie molto portata verso il biologico una regione che oggi può comunque difendersi a livello comunitario nel discorso del progetto green che si sta portando avanti l'aumento del prezzo delle materie prime rischia fortemente di ridurre la velocità della ricostruzione post terremoto un rincaro dovuto principalmente alla crisi pandemica e che ha interessato soprattutto ferro, legno, resine, acciaio, laterizi e vetro è stata pubblicata un'ordinanza commissariale dove tra l'altro si consente nelle more della revisione del preziario sisma che è molto contenuto di applicare in alternativa a quello regionale più aggiornato e più consistente in particolare nelle marche dove la regione ha provveduto ad un aggiornamento proprio nel mese di luglio ci sarà anche il ministro per i rapporti con le regioni Maria Stella Gelmini all'assemblea elettiva della CNA Marche che si terrà venerdì prossimo a partire dalle 17 alla Mole Van Vitelliana di Ancona tema principale la cosiddetta Terza Italia per creare un nuovo modello di sviluppo tra il Tirreno e l'Adriatico con l'obiettivo di puntare sulle piccole e medie imprese sulla forza dei distretti per competere con il nord produttivo e con le aree economicamente più avanzate dell'Unione Europea prosegue in questo mese di settembre confortato da temperature e miti Marche Storie, racconti e tradizioni dei borghi in festa con centinaia di artisti coinvolti sentiamo l'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini Marche Storie è il festival dei borghi che è iniziato il 2 settembre e proseguirà fino al 19 settembre ecco dal titolo Marche Storie capiamo subito che ci sono delle bellissime storie da raccontare in questi luoghi magici sia dell'entroterra che della costa ecco attraverso la rappresentazione scenica di queste storie di queste leggende, di questi miti e tradizioni che caratterizzano questi luoghi noi potremo finalmente far conoscere anche ai turisti il fascino di questi luoghi perché poi il borgo oltre che ad accogliere queste rappresentazioni sceniche, artistiche che convolgono ben 850 artisti marchigiani ecco ci saranno in questi borghi una vera e propria festa quindi vendita di prodotti dell'artigianato locale degustazioni enogastronomiche dei nostri prodotti tipici e quindi il borgo sarà in festa dal giovedì alla domenica per sapere il programma potete andare nel sito www.marchestorie.it vi aspettiamo nei nostri bellissimi borghi perché queste due prime settimane di settembre sono veramente all'insegna della cultura della tradizione e dell'emozione la regione Marche invia aiuti in soccorso alla popolazione colpita dal terremoto e dalla tempesta tropicale ad Haiti paese davvero devastato da eventi calamitosi che sembrano non finire mai lo comunica l'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi che specifica che il materiale raccolto verrà imbarcato nel volo in partenza da pratica di mare per Porto Prens previsto per domenica si tratta prevalentemente di dispositivi medici materiali per l'igiene, coperte e teli ombreggianti ed oggi è stata presentata a Metelis tre giorni di eventi ed iniziativa amatelica dal 24 al 26 settembre sentiamo Sara Santacchi luogo di delizie, luogo di idee e curiosità con leggerezza è Metelis tre giorni amatelica il 24, 25 e 26 di settembre fra tavole rotonde, laboratori, attività per bambini e spettacoli a contatto con la bellezza sotto la direzione artistica di Paolo Notari organizzata dalla giovane fondazione Il Vallato Metelis metterà al centro tanti personaggi dalla piccola Anita Bartolomei vincitrice dello Zecchino d'oro a Edoardo Vianello, Rosanna Lambertucci per chiudere con la musica dei New Trolls spazio anche allo sport con Milena Baldassarri reduce dalle Olimpiadi di Tokyo e Giorgio Farroni, medaglia d'argento alle Paralimpiadi In effetti Metelis vuole essere la nostra presentazione perché noi siamo nati da pochi mesi, pochi giorni e quindi vogliamo in realtà con questo evento fare in modo che la popolazione di questa valle che è l'obiettivo del nostro intervento si renda conto di quali sono i nostri obiettivi gli obiettivi della fondazione sono detti con chiarezza nel manifesto ma comunque sono lo sviluppo delle opportunità notevoli che ha questo territorio Ecco, infatti il primo intento è proprio quello di ritrovarsi in piazza se vogliamo, quindi la socialità e socializzazione in tempi non semplici come quelli dopo la pandemia o comunque nel corso della pandemia Certo, io sono molto più vecchio di lei quindi ho dei ricordi quando la piazza era il centro della socializzazione la piazza era il mercato per i contadini settimanale era la socializzazione del giorno di festa in realtà il paese aveva un punto per socializzare e per confrontarsi ho l'impressione che nella nostra epoca queste cose siano un po' più complesse e quindi in realtà la fondazione vuole essere un punto di socializzazione probabilmente acculturato acculturato su tecniche di vendita che appunto sono quelle che possono garantire il successo delle nostre opportunità che sono turistiche, gastronomiche, industriali, culturali E siamo allo sport che apriamo con l'atletica leggera nuova perla del campione olimpico anconetano Gianmarco Tamberi che ieri ha vinto la gara di salto in alto delle finali di Damon League di Zurico con la misura di 2,34 aggiudicandosi anche il trofeo per il vincitore della classifica complessiva della sua specialità per festeggiare Jimbo che riceverà anche un premio di 40.000 dollari ha fatto il giro dello stadio e scattato foto con gli spettatori dopo essersi messo al collo la medaglia d'oro vinta a Tokyo ed essersi avvolto in una bandiera italiana si chiude quindi per lui una stagione davvero memorabile e veniamo alla presentazione degli avvenimenti agonistici del fine settimana ad aprire sarà Lascoli calcio a Como domani alle 14 per la terza giornata del campionato di Serie B i bianconeri sono a punteggio pieno dopo due gare anche se tornare in campo dopo la sosta presenta sempre grandi incognite l'impegno è severo anche perché i lariani hanno sinora colto due bei pareggi in trasferta a Crotone e Lecce però è un impegno alla portata anche se Sottil non potrà utilizzare l'ultimo arrivato l'attaccante Iliev alle 17.30 in Serie C trasferta per l'Ancona Matelica senza lo squalificato attaccante Moretti a Grosseto test indicativo per verificare le potenzialità del nuovo gruppo biancorosso domenica invece la Fermana cercherà la sua prima vittoria alle 14.30 a Recchioni contro il Montevarchi mentre alle 17.30 per la Vispessero è in programma il proibitivo match di Pescara vediamo ora le previsioni meteo per sabato 11 settembre Amici, trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che attenzione sarà particolarmente variabile e instabile nelle regioni meridionali per il passaggio di questa zona di bassa pressione che porterà acquazioni temporali localmente anche intensi e già transitata tra la Sardegna e la Sicilia nelle ultime ore e quindi se controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia ci accorgiamo che un po' di nuvole passeranno sì sul nostro paese la nuvolosità più estesa e compatta interesserà al sud le nubi che vediamo transitare al centro nord a inizio giornata sono in realtà nuvole alte di poco conto e così come precipitazioni saranno appunto le regioni meridionali a vedere arrivare acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto sul basso Tirreno quindi come vedremo tra poco Sicilia, Calabria, Campania sono le regioni maggiormente a rischio quindi ci attende un sabato in difetti a molto variabile e instabile al sud qualche residuo piovasco in Sardegna ma poi situazione lì in miglioramento invece temporali anche forti Sicilia, Calabria anche in Basilicata, in Campania come vi dicevo arriva qualche nuvola pure in Puglia e nel Lazio anche lì sarà possibile qualche breve piovasco ma in forma più isolata invece nel resto d'Italia l'estate va avanti al centro nord temperature fino a 30 gradi per sapere nel dettaglio comunque cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo E sempre per il calcio tempo di Coppa Italia in Serie D domenica alle 16 anticipano il primo turno Re Canatese e Castelfidardo che così avranno la possibilità in un match ufficiale di scaldare i motori Tolentino Fano e Porto Dascoli in Ereto alle 15 valgono invece come turno preliminare il 19 settembre il via al campionato e parte il torneo di eccellenza con 17 squadre in asse di partenza fischio d'inizio per tutti domenica alle 15.30 ed il calendario riserva già qualche partita di cartello come il derby Biagio Nazaro Chiaravalle Vigor con i senigalliesi tra i favoriti per la vittoria finale da seguire con interesse anche la trasferta della Forza Empronese finalista playoff a Marina ed i match esterni del Val di Chienti Ponte a Gallo e del Montefano ad Urbino inizia al Carotti la Iesina contro il retrocesso Porto Sant'Elpidio al via anche i due gironi di promozione e le nostre trasmissioni domenica in diretta le Marche nel pallone alle 21 e lunedì alla stessa ora tempi supplementari il telegiornale invece termina qui grazie per essere stati con noi e buon weekend e buon weekend